Le emozioni sono tante, è il massimo per un artista, una sua creatura che venga apprezzata per un'occasione così molto importante, il cinquantesimo anno della Serie A del Catanzaro, quindi non può essere che sia una cosa bella per me. E' nato che io sono stato affascinato dell'Acula, è un essere molto supremo, qualcosa di forza, qualcosa di meraviglioso, quindi mi sono gimentato a farla e mentre la facevo più ci lavoravo e più stavo vedendo che stava venendo bene, quindi ho voluto dargli un'impronta battagliera a quest'Acula e poi pensando che Catanzaro era il simbolo di Catanzaro, ho detto io sicuramente questa qua la dedicarò alla squadra di Catanzaro. E' una specie che possa fare bene per la squadra di Catanzaro e sono contento di fare il mascotte per la prossima stagione. Grazie a tutti.